Impatto positivo ed applausi. Al Ducados la prima dei provinciali Under 15, firmata meridiana Etna Soccer, finisce 8-0 sulla New Team Catania e inaugura al meglio l'annata 24-25 nel girone fuori classifica. Un ritorno in campo agli ordini di Salvo Garozzo per molti confermati, reduci dalla vittoria del provinciale Under 14 dello scorso campionato. Gabriele Mascali, Alessandra Patti, Mattia Larosa, Cristian Carrasi, Benni Santa Paola, Leonardo Foresta e Gianluca Medea, capitano per l'occasione, insieme ai componenti del gruppo regionale Maurizio Scuderi, Daniel Di Stefano, Nicolo Calì e quelli della Messe Nuova Edizione, Nilo Scuderi, Carmelo Grillo e Manuel Sanfilippo, che sabato hanno pareggiato 0-0 a Siracusa con Lara Rinantes proseguendo la scia positiva dei risultati degli ultimi tempi. A loro si aggiungono il difensore Giuseppe Petrelia, il centrocampista Diego Bonanno, gli attaccanti Stefano Squillaci, Giuseppe Condorelli e Adriana Patania. Diverse le occasioni da rete che anticipano il vantaggio a metà tempo. Petrelia prima, Squillaci e Sanfilippo poi. Questi ultimi impegnano il portiere ospite ricevendo delle giocate importanti dalla cabina di regina di metà campo a cura di La Rosa. Santa Paola invece su assist di Foreste Squillaci conclude a lato da buona posizione. E così anche Nilo Scuderi di testa sul calcio all'angolo di Sanfilippo sfiora di un soffio l'1-0, che arriva con questo colpo da kamikaze di Santa Paola pronto a correggere l'ennesimo corner di Sanfilippo. Vantaggio dunque dell'Etna Soccer poco prima del quarto d'ora e formazione di casa che va verso la via del raddoppio altre tre volte prima di assestarlo. Sanfilippo chiama in causa il portiere della New Team su assist di Petrelia. Poi Santa Paola timbra un legno di testa sul calcio d'angolo. E infine Squillaci la mette a lato dopo ottima intesa con Foresta prima e Sanfilippo poi. Insomma c'è tanto dei padroni di casa che in difesa non rischiano nulla. Qui Capitan Medea coordina l'esterna destra non facendo passare nessuno. E il raddoppio di Squillaci mette già la parola fine con più di un tempo d'anticipo alla contesa. Grande merito nell'occasione va a Foresta che raccoglie dal fondo una respinta sul tiro dello stesso autore del gol, mettendolo in condizione di effettuare sulla linea un tapine vincente. 2-0 e non è finita. Scuderi insiste su questa palla che chiama in causa Sanfilippo. Parabolica l'incrocio che si spegne in rete. Gran gollo questo del 3-0. Risultato con cui si va all'intervallo al Duca d'Aosta anche se la Messe sfiora un'altra volta il gol e lo fa con Squillaci che di potenza non c'entra allo specchio su Assis di Foresta che nella ripresa lascia spazio a Patania nell'ambito del triplo cambio di Garosso che manda in campo anche Patti e Condorelli al posto di Squillaci e Buonanno. La ripresa dunque si apre subito con un calcio di rigore. Petrelia per Patti, palla indietro per Medea. Crossa a cercare Condorelli che viene agganciato. Rigore sul piatto destro di Medea che si fa ipnotizzare. Quindi doppia parata sulle ribattute di Santa Paola e Patania che rimandano il 4-0. Ultimo step di cambi qui coordinati dal dirigente Santo La Rosa. Dentro Garozzo, Grillo e Maurizio Scuderi al posto di Santa Paola, Sanfilippo e Carrasi intorno al minuto 10. Seconda occasione quindi a seguire nel giro di pochi minuti per Patania. In fuga è lanciata da Grillo. Cerca l'angolo quasi a tu per tu col portiere ma niente da fare. Altro assist di Grillo stavolta più ravvicinato. Servita Patti che va al tiro e colpisce la traversa. Patania ci riprova ma senza fortuna. E alla fine a gonfiare la rete è Garozzo che fa 4-0. La difesa continua a controllare senza particolari problemi. Una parata di Mascali in un momento della partita che è di pura gestione per la meridiana Etna Soccer. Quindi dall'altro lato Garozzo e Grillo scaricano per Petralia che da fuori indovina il bersaglio e regala ai suoi il 5-0. Entrando così a referto in questo lunedì di Passarella. Gli altri due gol nel finale. Patti per Garozzo che allunga in area su Condorelli. Esordio con gol anche per lui. Come il precedente, marcatore a distanza di pochi minuti. E questa la rete che vale il 6-0. Resta il tempo per un altro rigore procurato da Condorelli causa mani davanti la porta di un avversario. Lo trasforma a Grillo con tanto di dedica speciale e siamo a 7. Lo stesso numero 9 si ripete stavolta ispirato da Scuderi. Con un diagonale morbido che chiude qui il pomeriggio di festa alla Duga d'Aosta per la meridiana Etna Soccer. Domenica annesima. Alle ore 10 prima trasferta dell'anno in casa del Catania con ottime prospettive dopo questo esordio scoppiettante. Meglio dire esplosivo. Quanto ti sei divertita oggi? Tantissimo perché è stata la prima partita in questa nuova squadra e mi sono divertita tanto. Tu nel tuo ruolo come ti trovi? Ti piace? Certo, tantissimo. Da quando sono piccola faccio questo ruolo. Senti, questa vittoria a chi la vuoi dedicare? A me e alla mia famiglia. Nel gruppo ti trovi bene? Certo. Hai legato più con qualcuno? Con Alessandra. La vittoria è stata meritata secondo me perché abbiamo giocato molto di più. E niente, si vedrà le prossime partite come andranno. Cosa ti aspetti di questo campionato? Tu e tutti i tuoi compagni? Sicuramente di dare il massimo, di migliorare giorno dopo giorno e sicuramente di vincere il campionato. Quello è l'obiettivo principale.